Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale Allora oggi vi parlo, o vi riparlo, perché una volta già avevo parlato però tempo fa della mia esperienza con la Biobox Per chi non lo sapesse, questi abbonamenti che si fanno online che possono essere di un mese soltanto, di più mesi, annuali che riguardano appunto le categorie che si amano perché poi in effetti non ci sono neanche soltanto di beauty ma anche tipo di cibo, eccetera Io ho aderito all'abbonamento della Biobox quindi di prodotti biologici in particolare sia per quanto riguarda il make-up, sia per la skin care e il sito che io ho scelto è in particolare, ve lo lascio scritto qui Una Donna Vagabonda Allora ho scelto questo perché adesso se ve lo devo dire non me lo ricordo neanche forse perché ho trovato delle buone recensioni su internet e perché è stato uno di quelli che facilmente mi è uscita la descrizione Biobox perché all'inizio, per esempio, io già un po' di tempo fa ne avevo sentito parlare di questi abbonamenti però non riuscivo mai a trovare la sezione bio invece su questa l'ho trovata facilmente Comunque, quindi, niente scusatemi se parlo un po' random però vi dico quello che mi viene in mente non mi sono preparata un discorso quindi vi dico proprio quello che mi viene in mente e niente, ho deciso di fare questo video perché una ragazza me l'ha chiesto quindi sono felice di accontentarla spero di poterla essere utile ah, ecco, anche perché io quando le prime volte volevo acquistare queste biobox, ecc cercavo su YouTube e non c'erano proprio video al riguardo quindi avrei voluto qualcuno che mi spiegasse un po' quindi anche per questo lo faccio anche perché non mi ricordo più di quel video in quel video di cosa vi parlai quando feci questo video vecchio il primo che feci, appunto, vi dicevo di queste biobox del mio abbonamento Comunque, senza perdermi in troppi preamboli mi piaceva quest'idea perché comunque era carino fare questo abbonamento e poi ritrovarsi questi regali a casa perché appunto, non so voi ma ricevere anche una cosa che ovviamente avete comprato voi però è bello perché non vedete l'ora che arrivi quindi ho fatto sempre abbonamenti di 3-6 mesi mai di un mese soltanto e ovviamente si va a risparmiare anche se è di pochissimo cioè nel senso tipo se fate quella di un mese 22 euro al mese per esempio 23 euro al mese se fate quella di 3 mesi se andate a vedere al mese sono 21 euro per esempio 2-3 euro di differenza niente di che però comunque accumulati tanti mesi c'è un po' di differenza e la cosa più importante che ci tengo a dirvi perché magari uno se lo starà chiedendo ma perché mi devo abbonare per ricevere magari prodotti che non conosco appunto così a sorpresa che magari poi non mi piacciono quando posso tranquillamente investire i miei soldi e andando direttamente a comprare quello che mi serve allora perché? perché è assolutamente conveniente ragazze nel senso che i prodotti che ricevete superano se non di gran lunga ma comunque in generale superano il prezzo che voi avete pagato per appunto mensile quindi per dirvi ricevete una quantità di prodotti una qualità di prodotti tale che supera il costo che voi avete pagato quindi per dire pagate 20 euro vi arrivano prodotti pari anche a 30-40 eccetera euro quindi assolutamente per questo è conveniente perché altrimenti tutti se no non la farebbero questa operazione poi ve l'ho detto perché è bello ricevere prodotti a casa tipo regalo perché è bello appunto ricevere cose che non sapete cosa siano quindi magari oddio siete contenti quindi perlomeno io sono molto contenta e quindi per questo è un'idea carina e poi la cosa importante anche che ci tengo a dirvi non so gli altri quindi vi parlo della mia esperienza per questo però questo sito vi fa penso anche con quegli altri in generale vi fa comunque compilare un questionario ovviamente per scegliere ciò che è più adatto a voi al vostro incarnato al vostro tipo di pelle al vostro tipo di capelli vostre esigenze vostri gusti tutte queste cose qui perché così ecco non potranno sbagliare facilmente quindi se per dire voi avete una pelle di afan non vi potranno inviare scusate il telefono quindi vi stavo dicendo vi fanno compilare questo questionario per appunto seguire un po' i vostri gusti quindi per esempio per dirvi io avevo inserito che avrei voluto magari ricevere di più dei prodotti per capelli meno cosa avevo inserito di meno ora non me lo so neanche dire di meno cosa avevo tipo ho capito hai capito se posso fare con la mia amica vabbè tipo inseriamo insomma ma anche poi delle postile in cui possiamo dire lo specifico per esempio io non amo i colori tipo azzurro freddi non so per gli occhi io per esempio l'ho messo infatti non mi inviano questi tipi di colori ma inviano più colori della terra quindi mettete le vostre preferenze le vostre esigenze e quindi loro cercano di accontentarvi devo dire la verità a me hanno sempre accontentato ovviamente per dirvi non mi hanno accontentato quando mi hanno non so mi hanno mandato lucida labbra per esempio perché era di una nuova collezione perché a me non piacciono lucida labbra però non è colpa loro voglio dire può capitare però devo dire che in generale sono sempre stata molto contenta anche per esempio ho ricevuto adesso vi faccio qualche esempio di cose che mi sono piaciute molto mi è piaciuto molto ricevere ho ricevuto ve ne ho parlato in uno degli ultimi video in cui mi mostrava prodotti finiti ho ricevuto un integratore alimentare quello lì per drenare che non mi aspettavo che è stata una bella scoperta ho ricevuto una spazzola di plastica molto grande ce n'avevo una piccola questa molto grande con tutte le parti diverse per lavare i pennelli io ce n'avevo una piccola che diciamo è più per i pennelli piccoli per quelli grandi è talmente piccola che non riesce e quindi mi piace tantissimo perché posso lavare i pennelli anche giganti ho ricevuto dei prodotti per le imperfezioni un prodotto di domussole che vi ho mostrato più volte insomma diversi prodotti che mi sono tanto piaciuti poi sono tanto carine le ragazze che curano questo sito in particolare perché ogni volta che mandano la biobox del mese vi mandano anche tipo un sacchettino una scatolina carina in abbinato quindi davvero carinissimo ricevere queste coccole praticamente e quindi in generale io ve lo consiglio perché davvero non è uno spreco di soldi ve l'ho detto perché comunque compilando il questionario è difficile che sbaglino è bello perché vi sono delle sorprese eccetera sono curate queste cose nel dettaglio ve l'ho detto anche con queste bustine con queste stoffe colorate che scelgono le ragazze appunto di questo sito poi ve l'ho detto cose importantissime i prodotti che vi arrivano o sono pari ma mai sono pari sempre superano il costo che voi avete pagato quindi davvero è una cosa che vi consiglio di fare almeno una volta per vedere come vi trovate perché mi piace tantissimo ogni tanto il mio fidanzato infatti me lo regala perché mi piace tanto ricevere queste sorprese e quindi niente sì penso di avervi detto bene o male tutto per raccontarvi un po' questo discorso niente poi per farlo andate sul sito vi registrate ovviamente inserite l'indirizzo tutte queste cose qua ve l'ho detto compilate il questionario che altro scegliete il tipo di box a cui volete aderire perché non c'è solo quella bio ma c'è anche quella normale di trucchi cioè non bio c'è la bio box anche per i bambini la box anche per i bambini tipo per chi vuole provare prodotti per bimbi per chi magari ha dei figli dei neonati eccetera eccetera ve l'ho detto ci sono tante possibilità per quanto riguarda sia mensile sia annuale davvero davvero avete tantissime scelte diverse e poi questo tra l'altro questo qui che vi ho detto è anche proprio un sito in generale che vende proprio prodotti cioè è un negozio non so se poi ci sia anche fisico credo di sì ma comunque vende anche in generale cose però appunto mi è piaciuta tanto questa idea la volevo fare da tanto tempo perché ne sentivo parlare proprio anche tanto tempo fa di queste box che appunto ti inviavano i prodotti tu ti abbonare eccetera eccetera ti inviavano prodotti anche di be marche e così via quindi mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuta tantissimo l'idea appunto che facciano anche queste qui bio perché appunto io che utilizzo make up bio skin care routine soltanto bio capelli solo bio naturale eccetera eccetera mi ha fatto tantissimo piacere perché comunque facciamo finta che sì ok posso volere un rossetto che non sia bio posso volere un trucco che non sia bio però magari se mi arriva un fondotinta che non è bio non lo utilizzo se mi arriva uno shampoo che non è bio non lo utilizzo quindi mi è piaciuta tantissimo questa scelta questa opportunità appunto di scegliere il bio ve l'ho detto credo di avervi detto tutto se non vi ho detto qualcosa scrivetemi nei commenti vi risponderò con piacere fatemi sapere se questo video vi è stato utile spero di sì soprattutto alla ragazza che me l'aveva richiesto se vi è stato utile lasciatemi un like perché mi fate tanto piacere e iscrivetevi al canale perché mi fate tanto piacere fate tanto piacere anche a mia sorella seguiteci su tutti i social sempre con lo stesso nome di youtube e seguitemi anche sui miei social che riguardano al passo con lo stile che trovate su facebook e su instagram per restare sempre al passo con lo stile vi mando un bacio e al prossimo video